ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo alla scoperta del nuovo telefono huawei p40 un nuovo smartphone che mi è appena arrivato e devo ancora aprirlo adesso guardiamo un po insieme come si presenta il huawei p40 apriamo la scatola e troviamo subito il telefono imballato nella sua nel cellophane poi abbiamo la solita scatolina con la cover non me l'aspettavo questa non me l'aspettavo una gran cosa il la cover in silicone trasparente ecco questo è un gran è un gran regalo è un gran plus una cosa in più poi cosa abbiamo il caricabatterie col cavo usb di tipo c le cuffie e qui cos'altro c'è la solita pennina per aprire l'alloggio delle sim la guida delle istruzioni guida d'inizio rapido questo start grid inglese e spagnolo ormai tanto questo basta accendere ormai siamo tutti tecnologici riusciamo tutti a giocarci da subito allora partiamo subito telecamera a una 33 camera leica io avevo luogo ip30 già faceva delle ottime foto degli ottimi video immagino che questo sia di qualità superiore sicuramente poi lo proverò e vi saprò dire e adesso andiamo proprio a vedere il nostro telefono a bello colore è un grigio ghiaccio era silver frost il modello mi pare si telecamera sul davanti con la lucetta anche accendiamo vediamo un po sarà scarico sicuramente sarà da caricare no parte eccolo qua che inizia subito farà tutto il suo ciclo ecco la musichina del huawei adesso ci gioco un po e poi vi farò sapere le mie prime impressioni allora qui abbiamo la possibilità di scegliere le lingue ovviamente si parte dal azerbaijan english spagnolo insomma chi più ne ha più ne mezza andiamo subito a cercare il nostro italiano ok italiano inizia area geografica italia facciamo avanti ecco qua ho detto a accettato avanti inserire la scheda sim ok va bene allora andiamo avanti cerchiamo su ignora per la scheda sim ora mi chiede di collegarmi a una scheda di rete andiamo a cercare la mia scheda che devo allora siamo connessi alla rete internet accettazione della privazione ora mi chiede huawei di adesso inserisco tutti i dati provo un po il telefono e poi vi faccio sapere le mie prime impressioni eccoci qua prime recensioni per il momento sono soddisfatto l'ho un pochino usato ho fatto qualche foto qualche video mi piace funziona bene intuitivo è l'evoluzione del di quello che avevo prima quindi del p30 quindi diciamo che giocavo in casa tra virgolette a usare questo telefono è molto semplice intuitivo le foto vengono bene ho fatto qualche qualche prova adesso poi vorrei scaricare tutte le nuove applicazioni tutte le cose proverò poi con calma e poi magari vi farò sapere se ci sarà qualche altra cosa da aggiungere a questo video per il momento tutto positivo la cosa che mi ha fatto piacere sembra una sciocchezza ma la cover e la cover perché è utile ormai questi telefoni poi sono talmente delicati che è una cola cover è un oggetto che è talmente di un costo minimo che è giusto che le mettano in dotazione almeno una poi chiaramente se uno la vuole colorata con le proprie squadre di calcio coi gatti coi cani se la compra però almeno una così trasparente è una cosa che ho apprezzato parecchi bene adesso vi ringrazio per aver seguito questo video e vi invito a iscrivervi al canale a mettere un like in modo da non perdere le novità in arrivo poi sul canale grazie e arrivederci al prossimo video ciao